Per favore mi dica come sono andate le analisi, la prego Allora, sì, ha una notizia buona e una cattiva La notizia buona è che lei è in perfetta salute, veramente Grazie al cielo, mi dica quella cattiva E quella cattiva è che non è vero Non è vero, ci sei cascato come un pesto Che devi condividere ogni cosa che ti passa sotto la spruccia Sì, ma penso a quello dietro che è tipo mezzo fatto Sì, no, cioè perché nessuno, nessuno mi considera Premetto che in questo video farò la figura del cagino C'era Mi verrebbe da saltargli addosso e vinghiarli da pietro come delle putri, le vaccherelle Sì, ma penso che non è vero Succeso Grazie a tutti Grazie a tutti Sì vabbè abbiamo capito se tu c'è basta No, sono il più forte Non sono mai stato così potente No, sono mai No, sono mai stato così potente 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 No, sono mai stato così potente